Il ministro dell'interno Piantedosi ha garantito al prefetto di Milano più persone per controllare il territorio e garantire più sicurezza, ma è polemica sulla frequenza con cui gli atti di violenza avvengono. Libero di muoversi indisturbato, una denuncia per il furto di un telefonino su un autobus solo un mese fa, una vita allo sbando, senza casa né documenti, quasi sempre alterato. La sua pericolosità sociale è palese, si legge nella richiesta di convalida dell'arresto nei confronti di Rasi Abraman, il marocchino di 23 anni che lunedì pomeriggio ha seminato il panico nella zona della stazione centrale di Milano, rapinando e accoltellando sei persone, tutte fortunatamente già dimesse dall'ospedale. Vittime scelte a caso, tutte donne più facili da sopraffare, una 23enne italiana salvata dalla sua furia solo grazie al coraggio e all'eroismo di Carlo e di Francesco Miciantuono, 68 e 57 anni che in Viale Brianza non hanno esitato a scagliarsi contro il folle, restando feriti anche loro. Una violenza estrema e una tragedia sfiorata solo per caso come in via San Martini quando è incrociata una 34enne spagnola incinta. Mi ha scagliata a terra contro le auto facendomi sbattere la testa, il coltello alla gola, poi pugni, schiaffi al volto per rubarmi il telefonino, racconterà la donna alla polizia, un copione che si ripeterà per altre tre volte priva del suo arresto. Un episodio gravissimo che ha riacceso le polemiche sulla sicurezza in città con il centrodestra all'attacco del sindaco Sala che ribadisce come a Milano non ci sia un'emergenza e con il centrosinistra che ricorda che il titolare della sicurezza risponde al nome del ministro dell'interno Piantedosi che ieri con una telefonata al prefetto di Milano ha confermato l'invio di nuovo personale per allargare il perimetro dei controlli e della prevenzione non solo alla stazione centrale di Milano ma in tutti i luoghi della Movida milanese.